Hola e benvenuto in questa pillola di evoluzione, una rubrica all'interno della pagina a spasso con lo scrittore. Se è una persona che si illude che tutto vada bene sempre e comunque, oppure una persona che considera tutti gli aspetti che la vita ci dà, comunque ne coglie il lato migliore. Vedi, esiste una forma di ottimismo che tende a ricostruire gli eventi tingendogli di colori solo ed esclusivamente positivi, togliendo oppure ignorando quegli aspetti che sono aspetti non positivi e quindi che rifiuta la complessità della vita. Questo è un ottimismo che io chiamo ingenuo. Perché? Perché toglie la grande possibilità che la vita ci dà, ovvero la possibilità di imparare dalle difficoltà, imparare dalle sofferenze, imparare da tutto quello che positivo non è. Esiste un ottimismo sano, ovvero un ottimismo funzionale che aiuta ad affrontare gli eventi sfidanti cogliendone il lato migliore, andando a vedere qual è la parte bella che c'è da vedere, considerando ovviamente e tenendo bene in conto di quelle che sono state invece le difficoltà sfidanti. E imparando da queste difficoltà e creando nuovi criteri di comportamento, creando strategie che possano aiutare in eventi di nuovo sfidanti o comunque nella vita di tutti i giorni, individuando quelli che sono i punti di forza, cogliendo gli aspetti nuovi, ribaltando un attimo le prospettive. Inoltre l'ottimismo ingenuo rifiuta quelle che sono le emozioni che non vengono viste o vissute come positive, ovvero la rabbia, la tristezza, la delusione, l'ansia. Tende a rifiutarle completamente e a non viverle. E questo purtroppo è qualcosa che non ci fa bene, perché alla fine le somatizziamo in qualche modo, tendendole sempre a nascondere. In realtà queste emozioni, anche queste emozioni, sono emozioni utili e necessarie, necessarie per poter comprendere bene quali potrebbero essere altre alternative. Un passo evolutivo da fare è quello di essere nell'emozione, ovvero di prestare attenzione all'emozione che proviamo per goderne il valore educativo. E quindi cosa fare per poter imparare di un'emozione? Innanzitutto concederci il permesso di viverla, qualsiasi essa sia. Ha maggior ragione se è un'emozione non proprio bella, che non ci piace. Accogliamola, viviamola, elaboriamola. Questo riconoscere questa emozione ci permetterà poi di farci una domanda. Ma prima di fare questo dobbiamo prendere una consapevolezza. Tutte le emozioni sono passeggere e sta a noi interpretare e gestire l'emozione che ci arriva. E un'indicazione importante che voglio darvi è questa. Fatevi una domanda. E la domanda che vi voglio suggerire è cosa mi rende arrabbiato? Cosa mi rende triste? Cosa mi rende deluso? Cosa mi rende ansioso? Farti questa buona domanda permette alla tua mente di direzionarsi verso un qualcosa di preciso e quindi prestare attenzione a determinate informazioni che arriveranno grazie a questa domanda. E quindi questa informazione ti permetterà di poter ovviamente trovare lo strumento necessario per poterla gestire questa emozione, per gestire il tuo stato emotivo. E quindi come dico sempre io ai miei coci, sii un portatore sano di ottimismo. Buona vita! Ciao!